E io mi riporto da questa parte vicino al nostro pianoforte perché ho qui un altro grande ragazzo che abbiamo conosciuto questa sera sto parlando di Diego Di Maolo qui al suo pianoforte che adesso insomma ci delizierà con un altro grandissimo brano l'hai preso molto spunto da uno che ha fatto grande ha riportato veramente in alto soprattutto tra i giovani il pianoforte sto parlando di Giovanni Allevi un grande artista che ormai lo vediamo anche nei primi posti dell'Hit Parade e tu hai preso spunto proprio da lui e adesso ci fai proprio uno dei suoi brani come sei veramente come sei veramente Diego Di Maolo per voi, prego grazie a tutti 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 grazie a tutti